Benvenuti su MyFootballJersey. Vediamo la prima maglia della Spagna per i prossimi europei di 2024-25, la maglia 2024-25, in edizione FAN. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Prima di lasciarci, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciateci un grande like. Fateci sapere, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale altre maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!